Come abbiamo sempre detto, noi non siamo d'accordo con la firma di una legge elettorale che è incostituzionale. La reputiamo incostituzionale e per questo la partita adesso si sposta per noi alla Corte Costituzionale con il ricorso che abbiamo presentato qualche giorno fa, che è un ricorso dettagliato di 20 pagine, che ha dentro tutte le motivazioni per cui per noi questa legge è incostituzionale. Allora, così di rimaio, Sarti, cominciamo proprio da lei, che rappresenta il Movimento 5 Stelle, viene annunciato di fatto il ricorso alla consulta, dopo però che il Capo dello Stato non ha rilevato nessuna questione di legittimità costituzionale. Che speranze avete che questo ricorso a questo punto venga accolto? Il nostro Presidente della Repubblica si è già sbagliato una volta quando ha firmato l'Italicum e quindi non è la prima volta che una legge viene firmata e poi dichiarata incostituzionale da parte della Corte. Era successo anche al suo predecessore quando aveva firmato la legge cosiddetta Porcellum. Detto questo, noi andiamo avanti perché riteniamo che qui ci sia una violazione dell'articolo 48 della Costituzione che prevede la segretezza, la libertà, il voto personale e purtroppo, secondo noi, col fatto che le preferenze sostanzialmente non esistono in questa legge elettorale questa è una delle prime violazioni che abbiamo rilevato nel nostro ricorso presentato alla Corte. E quindi vedremo che cosa succederà. Detto ciò, l'altra cosa che per noi e non solo noi è stata veramente un gesto di forza, di chiusura totale, è la questione di fiducia. Non si può mettere la fiducia sulla legge elettorale. È stato un pessimo spettacolo che ha portato addirittura il Presidente del Senato Grasso a dimettersi dal Partito Democratico e quindi sia su questo, sia sul voto di preferenza che non c'è perché ricordiamolo, due terzi dei politici, dei candidati saranno nominati dai partiti e quindi questa è purtroppo una violazione fortissima, è quello che si otterrà. Molte grazie Onorevole Sarti. Onorevole Sarti, parla di avventurismo il Presidente dell'Ai, riferendosi al modo in cui voi vi presentate per il governo della Sicilia, che è una regione storicamente a statuto speciale, che è una regione estremamente particolare, ricordiamo anche le caratteristiche dell'Assemblea siciliana. Oggi il Cancelleri ha detto, con molta onestà, non ho mai amministrato nemmeno un condominio, però gli altri hanno lasciato solo macerie. Basta il nuovo, basta essere nuovi o comunque, diciamo così, in un certo senso inesperti? Questo può essere un valore aggiunto oppure un pericolo? Mi perdoni, ma io qui vedo soltanto purtroppo le solite in realtà bugie che vengono raccontate. Noi stiamo già amministrando una marea di comuni in Sicilia e in tutta Italia, sono ben 45 e in Sicilia stiamo trattando situazioni serie come ad esempio Augusta, un comune sciolto per mafia che la nostra sindaca sta cercando di rimettere a posto nonostante il problema dell'immigrazione e già lì si sta facendo moltissimo. Detto ciò, noi, è vero, sarebbe la prima volta che arriveremo ad amministrare una regione. In questa campagna elettorale abbiamo parlato solo e soltanto di temi, dell'AI non è stato probabilmente in Sicilia, io sì, già nello scorso weekend e già in quelli precedenti, a parlare di temi, perché noi la prima cosa che faremo sarà il taglio ai costi della politica, i vitalizi degli ex parlamentari e il taglio dei privilegi, che già ancora esistono purtroppo per la classe dirigente. Un grosso favore per le piccole e medie imprese, quindi per le start-up, per favorire quella piccola e medie impresa che oggi non c'è e dei giovani che se ne stanno andando da quell'isola in massa, che si stanno trasferendo neanche più nelle regioni del nord, fuori dallo Stato italiano. Ancora il tema più importante è lotta alle mafie e lotta alla corruzione. Questo lo si farà attraverso sia misure di prevenzione, sia misure di contrasto serie unite al programma che abbiamo per le elezioni politiche. Invece vediamo dall'altra parte non solo non parlare di temi e appunto ridursi a tematiche infelici, ma soprattutto abbiamo visto una schiera di impresentabili che si presentano con condanni in primo grado, con misure di prevenzione, gente che ha fatto campagna elettorale dagli arresti domiciliari senza neanche avere l'avvicenza di tirarsi indietro. Mi dispiace ma questo è un sistema che non può continuare. Quell'isola è già stata mangiata dai Lombardo, dai Cuffaro condannati e mandati in carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra. Non possiamo continuare in questa maniera. E allora poi Salvini dice, conferma che si è parato soprattutto di Sicilia, ma dice anche a Berlusconi, c'è già l'accordo? Beh, allora è molto ottimista. Insomma è il più tra virgolette comunicativamente freddo Salvini rispetto a quello che è stato il risultato del vertice. Di ieri sera resta una cosa però, inorevole Sarti, riprendo con lei per questo ultimo giro di interventi, poi chiudiamo con dell'ai così invertiamo l'ordine delle risposte. Una cosa è sicura ed esce fuori da questa legge oggi promulgata dal Capo dello Stato. Questa legge elettorale è coalizionista, insomma invita ed aiuta coloro i quali si apparentano in qualche modo, cosa che voi non avete mai voluto fare e non volete fare nemmeno per il futuro. In nessun caso, in nessuna maniera, anche se arrivaste primi e vi servisse, diciamo così, qualcuno che vi aiuta a governare il Paese? L'abbiamo già detto e ripetuto tante volte, noi crediamo che i cittadini vorranno comunque darci fiducia proprio perché siamo stati coerenti fino a questo momento e non vogliamo allearci con chi purtroppo ha già amministrato questo Paese e l'ha portato alla distruzione al baratro in cui viviamo oggi. Quindi il fatto di non fare alleanze è una caratteristica del Movimento 5 Stelle perché rifiutiamo, come dicevo, di allearci con chi purtroppo ha già governato e lo ha fatto male. Ora, quando arriveremo al momento del voto, se arrivassimo primi, ci presenteremo al Parlamento e se ovviamente il Presidente della Repubblica ci darà un carico di governo per formare un governo, ci presenteremo al Parlamento, porteremo i punti di programma che per noi sono più importanti e vedremo chi ci starà e chi no. La cosa importante è parlare di temi e di programmi e di soluzioni per il Paese, non di accostaglie partitiche da definire prima delle elezioni, dove vediamo una sinistra che si allea addirittura, arriva ad arrivarsi con Angelino Alfano, che tiene ancora il Ministero degli Esteri dopo che l'ha tenuto a Ministro dell'Interno e quant'altro. È un Paese alla rovescia questo, in cui destra e sinistra non si distinguono più, li abbiamo portati allo scoperto e quindi l'unica cosa da fare è rimanere coerenti. Solo una battuta, mi perdoni per ciò che riguarda prima, siamo nella società in cui fa più rumore un tweet infelice di un governatore della Campania che voleva addirittura ammazzare, invitava ad ammazzare i di Battista e i di Maio e i miei colleghi. E questo fa ancora il governatore della Campania nonostante tutto e nessuno ancora ha chiesto scusa. Detto ciò io preferirei che si parlasse molto di più di cose importanti come l'indagine per dei mandanti esterni che in qualche modo non riguarda soltanto Berlusconi e Dell'Utri, qui siamo di fronte a una richiesta di verità da 25 anni che si sta portando avanti sulle stragi del 92-93 e le conversazioni di Graviano fatte in carcere sono note da giugno perché depositate al processo trattativa Stato-Mafia da giugno di quest'anno. Nessuno ne ha parlato in questi mesi, sta facendo rumore la notizia delle indagini a Berlusconi e Dell'Utri ma la cosa grave è che purtroppo l'attenzione su queste tematiche, sulla richiesta di verità delle stragi non c'è mai stata e allora bisognerebbe affrontarli un po' di più questi temi e non dimenticare il passato.